Brucia. Ad un ritmo senza precedenti la foresta amazzonica. Tre campi di calcio al minuto che vanno in fumo secondo le stime WWF. È una rovina per la vita. È l'obiettivo dell'uomo bianco distruggere. I nostri obiettivi sono proteggere la nostra zona, la natura, gli alberi e gli animali. I Mura continuano a resistere contro il governo Bolsonaro, ritenuto colpevole di questa situazione. Tribù forte che non si arrende e non lo hanno fatto durante il periodo coloniale, resistendo all'invasione della cultura portoghese, sono sopravvissuti a epidemie come il borbillo e il vaiolo e non lo faranno ora. Ora che l'Amazzonia, la più grande foresta tropicale del mondo, fondamentale per la lotta contro il cambiamento climatico, polmone verde del pianeta, brucia. L'84% in più di incendi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nell'ultima settimana oltre 9.500 roghi, 74.000 in totale da gennaio ad agosto. Fiamme che trasformano la notte in giorno. All'origine degli incendi, chiariscono i ricercatori brasiliani, non c'è la siccità, ma l'opera dell'uomo. L'obiettivo è sgombrare il terreno per nuove colture. La procura federale del Brasile ha annunciato la via di un'inchiesta per determinare se si sia vigilato in modo adeguato. Il mondo si schiera dalla parte dell'Amazzonia. Mobilitazione social delle star dello spettacolo e dello sport da Madonna a Ronaldo. E scoppia anche quello che potremmo definire un caso politico globale, a colpi di tweet. Macron, che richiama l'attenzione internazionale sugli incendi dell'Amazzonia. E Bolsonaro, che punta il dito contro le ONG ambientaliste, lo accusa di colonialismo. Polemiche mancate e prese di posizione, mentre la speranza verde del mondo si rimpicciolisce sempre più.